Un dolore dimenticato e poco conosciuto, anche se dopo la pandemia i casi di fibromialgia sono in continua crescita. In Campania si stimano circa 120.000 casi, 2 milioni di pazienti in Italia. La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da stanchezza e soprattutto dolore diffuso a muscoli e articolazioni. È una frequente conseguenza del Covid e secondo un recente studio israeliano, la sviluppa il 15% di chi è stato ricoverato per l'infezione, una percentuale che sale al 26% nel sesso femminile, dove la sindrome è molto più comune, colpendo in generale le donne in 9 casi su 10. Tuttora la fibromialgia non è inclusa negli elenchi ministeriali delle patologie croniche e quindi non è nei livelli essenziali di assistenza. Gli esperti chiedono perciò di puntare i riflettori su questa sindrome in modo che vegga facilitata una diagnosi tempestiva e quindi garantita una presa in carico assistenziale adeguata in centri con esperienza. Se ne è parlato in occasione del tredicesimo corso di alta formazione sul dolore acuto e cronico, dalla ricerca alla clinica, organizzato dall'Istituto Nazionale i Tumori Pascale di Napoli. Arturo Cuomo, direttore di anestesia, reanimazione e terapia antalgica del Pascale di Napoli e presidente del convegno. Oggi c'è la diagnosi, c'è la possibilità di effettuare diagnosi attraverso degli strumenti specifici, quindi questo è già un passo avanti perché consideri che la fibromialgia per tanto tempo ha avuto una diagnosi estremamente tardiva. Ci sono le terapie che sono terapie in parte farmacologiche e non necessariamente che utilizzano antidolorifici forti e poi c'è una serie di altre terapie non farmacologiche che vanno dalla fisioterapia all'agopuntura, alla tecnica di rilassamento, al supporto psicologico, alla consapevolezza e quindi in qualche modo al self-management. Grazie.